Buongiorno a tutti ragazzi, qui Arduino Schenato, ialforex.com e in questo video oggi parleremo di leva finanziaria visto che la leva finanziaria è un argomento molto molto discusso, è un argomento che tocca diciamo in linea di massima un po' tutti i trader, chi più chi meno e soprattutto chi all'inizio a volte non ha esattamente presente che cosa significa leva finanziaria e solitamente si va solamente a osservare il possibile come dire positivo che può dare la leva cioè il movimento del prezzo a nostro favore che quindi con una leva può essere moltiplicato ma non si guarda mai poi invece la parte più negativa cioè la leva vista nel momento in cui una posizione non va nella direzione che vorremmo noi. Quindi oggi vi faccio vedere sia in faccia che graficamente perché così volevo farvi vedere alcuni esempi sull'euro dollaro per farvi capire un pochino che cosa significa leva ma soprattutto come può essere utilizzata al meglio per non appunto incappare in trade o comunque un trading poco profittevole proprio perché la leva non è utilizzata bene. Prima di iniziare però volevo farvi vedere una cosa bella guardate ragazzi questa è la maglia che è arrivata nuova qui in sede di Yardforex, Price Action Trader le abbiamo fatte fare, ne faremo ancora e al momento probabilmente le daremo solo a alcuni trader che fanno dei percorsi completi con noi però state connessi perché ne faremo ancora altri colori e se siete Price Action Trader contattateci così vedremo magari di spedirvela. Detto questo andiamo subito a vedere quello di cui parlavamo prima ovvero la leva finanziaria. Ho preso il grafico di euro dollaro che ho qui davanti a me e come potete vedere vorrei mostrarvi come la leva è molto molto connessa alla volatilità del mercato infatti se io vado a prendere per esempio una giornata di ampia volatilità dell'ultimo periodo sull'euro dollaro quindi per esempio questa barra che trovate qui e vado a prendere all'incirca non serve essere perfetti all'incirca il movimento vedete da massimo a minimo da minimo a massimo dell'euro dollaro vediamo che si muove vedete di 1029 che sarebbero 102,9 pip quindi 103 pip un centinaio di pips questo centinaio di pip nell'ottica del valore percentuale del movimento di prezzo dal minimo al massimo è circa lo 0,90% diciamo che è l'1% però in realtà se vogliamo essere più 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 come dire perfetti nel conteggio lo 0,90% quindi 100 pips di euro dollaro è circa 1,09 110 pips di euro dollaro sono circa un punto percentuale di movimento allora io se vado a se ho per esempio un conto di trading da 10.000 euro e vado a comprare euro dollaro per 10.000 euro dollari quindi in questo caso con 10.000 euro vado a comprare un mini lotto di euro dollaro sulla metatrader lo 0,10 classico 0,10 che ha un controvalore di circa 10.000 euro 10.000 dollari in realtà e in questo caso ecco che se io se poi il prezzo dal massimo quindi io esempio entro qui e l'euro dollaro si muove di 110 pips ecco che io avrò realizzato un 1% del mio del mio conto che poi sono l'1% di movimento quindi in poche parole sono circa 100 euro 110 dollari di profitto quindi in questo caso questo 1% è un movimento naturale dei prezzi non c'è leva quindi ho 10.000 nel conto investo 10.000 il movimento dell'euro in questo caso dello strumento che sto tradando è dell'1% io avrò guadagnato l'1% quindi 100 euro sapete che nel mondo del forex e non solo del trading in generale c'è la possibilità di usare la leva che cosa significa? che se io ho 10.000 euro nel conto posso per esempio comprare 50.000 euro dollari quindi posso andare a levereggiare il mio account per esempio di 5 volte in realtà si può fare anche di 10 volte si può fare anche di 15 20 30 volte ultimamente negli ultimi anni con l'esma c'è stato un abbassamento della leva finanziaria sul mercato del forex soprattutto su le principali coppie di valute le majors dell'1 a 30 e tante volte si sente dire 1 a 30 è troppo poco e quindi ho bisogno di più leva per guadagnare ecco io adesso vi faccio vedere quanto già usare una leva 5 è tanta roba che cosa significa? che se io vado stessa cosa di prima invece di comprare qui i miei 10.000 dollari 10.000 dollari quindi un lotto da 0.10 quindi un mini lotto e quindi il movimento di 110 pips equivale all'1% perfettamente sul mio capitale perché il mio capitale è uguale a quello che ho investito se io invece ho 10.000 e investo 50.000 con il margine appunto che mi dà il broker quindi in questo caso circa un margine di 1.500 euro faccio un'operazione da 50.000 dollari euro dollari e quindi in questo caso un movimento di 110 pips identico varrà 5 volte in più quindi il mio guadagno in questo caso non sarà di 100 euro ma sarà di 500 euro perché se io uso la leva il movimento dell'1% di prezzo è 5 volte in più perché uso una leva 5 quindi invece di guadagnare 100 euro guadagnerò 500 euro stesso identico movimento stessa cosa se io sempre con un conto a 10.000 uso tutta la leva a disposizione che mi dà il broker in questo caso una leva 30 vorrà dire che io con 10.000 per 30 volte potrò usare fino a 3 lotti che significa 300.000 dollari 10.000 per 30 volte 300.000 euro dollari quindi cosa significa che nel momento in cui io avrò un movimento di dell'1% per 30 volte vuol dire che io le reggerò il mio account di 30 volte quindi un movimento dell'1% per me è un movimento del 30% avete capito com'è importante capire questo quindi vuol dire che voi con un trade a 100 pips potete avere un movimento del 30% ed è ovvio che per carità adesso lo stiamo vedendo a in profitto ma provate a pensare di vederlo in perdita quindi significa in linea di massima insomma leveraggiare un po' troppo il conto del 30% vuol dire che con 100 pips voi fate 3000 euro di profitto quindi in questo caso direi che è ovviamente al contrario quindi nel contrario nel caso in cui io compro e la posizione una volta che compro scende 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 oltre i 100 pips io perderò l'1% se vado a leva 1 il 5% se vado a leva 5 o il 30% se vado a leva 30 cioè la massima leva che oggi è permessa sul mercato del forex major ecco che nel momento in cui si osserva la leva in questo modo io in linea di massima devo cercare di mantenere delle leve che possono creare nel mio conto per ogni trade che faccio ogni 100 pips dei movimenti che non superino a mio avviso ogni 100 pips il 3% difficilmente addirittura io anche arrivo al 3% non uso solitamente delle leve molto alte anzi ho guardato un pochino il mio dialogo di trading quest'anno e siamo sotto la leva 2 addirittura ma fosse anche una leva 2 vuol dire che io ogni 100 pips rilevereggio il doppio quindi ogni 1% di movimento per esempio del prezzo dell'euro dollaro se fa l'1% io perderò il 2% se fa l'1% in profitto guadagnerò il 2% ma non di più perché così riesco a gestire meglio tutta la parte appunto del mio capitale e riesco nel momento in cui la posizione non dovesse andare a realizzare un profitto riesco a comunque fare la prossima operazione senza avere nessun timore nessuna situazione emotiva stressante che può portarmi a fare un'operatività che non ha molto valore quindi ecco quello che volevo soffermarmi abbiamo visto la leva in maniera un pelo diversa da come si guarda solitamente vista insieme alla volatilità perché è molto importante quindi quando io faccio per esempio trading cerco sempre di andare a valutare quella che è la volatilità degli ultimi giorni cerco di capire anche quali sono gli ultimi swing quindi dove il prezzo potrebbe andare a se viola quei livelli andare quindi a fare un movimento contrario al mio e quindi posizionare degli stop che abbiano un certo senso io solitamente comunque senza leva gli stop vanno da uno 0,5% a un 1,5% proprio di movimento di prezzo questo sulle principali copie di valute con la volatilità attuale quindi da 50 pips a 150 pips questi sono un po' gli stop quindi 50, 60, 70, 100 pips, 80, 110 difficilmente supero l'1,5% di stop di movimento proprio percentuale proprio perché così poi riesco ad avere un possibile rendimento raggiungibile che rientri in questi parametri perché è ovvio anche che se io ho esempio 100 pips di stop in una posizione magari cerco di prenderne 150, 200 e quindi se uso una leva 1 quindi ho 10.000 euro di conto e vado a comprare un lotto un mini lotto da 0,10 quindi sulla metatrader, mini lotto se faccio 200 pips realizzerò circa un 2% rischiando un 1% quindi vedete com'è molto semplice è ovvio che se voi usate una leva 2 quindi invece di con un conto di 10.000 entrate con due mini lotti quindi con 20.000 se il movimento del prezzo è di 200 pips quindi del 2% usando una leva 2 quindi il doppio il vostro 2% di movimento del prezzo sarà un 4% quindi fate sempre questa connessione attraverso i swing e la volatilità e da lì riuscite anche a capire come gestire un pochino la leva perché poi dopo c'è tutta la connessione come dicevo prima con i swing e dove posizionare lo stop in linea di massima per consiglio una leva che supera il 5 volte quindi l'1 a 5 di leva secondo me sopra quei livelli lì già si sta levereggiando troppo quindi solitamente da leva 1 a leva 3 a leva 4 sono le leve che si riesce a gestire ovviamente però parametrandole allo stop in percentuale del movimento di prezzo perché io posso anche utilizzare una leva 2 che è una leva bassa ma poi magari mi metto non so uno stop del 10% di prezzo una leva 2 vuol dire che è uno stop del 20% sul mio conto quindi diventa anche lì anche la leva 2 abbastanza pesante da gestire questo se avete domande potete o comunque dei commenti potete appunto scriverli sotto nei commenti del video vi ricordo che siamo sempre live il lunedì ore 18.30 con la trading room e poi di settimana in settimana con i vari video vi invito quindi a iscrivervi al canale e a mettere mi piace sotto il video io vi saluto e vi auguro una buona giornata e un buon trading simple ciao a tutti